Buonasera a tutti, ho ascoltato con grande attenzione il discorso del Capo dello Stato e devo dire che alla fine quello che era l'incubo peggiore comincia un po' a materializzarsi davanti ai miei occhi. Quella che doveva essere la legislatura di rottura, quella che aveva portato al voto di tantissimi italiani, di una maggioranza importante di italiani a favore del Movimento 5 Stelle da una parte e della Lega dall'altra, prima forza dentro il centrodestra, sta diventando la legislatura della conservazione pura, la legislatura che comincia con un senso e finisce con il senso completamente opposto. Questo perché? Perché semplicemente la politica ha avuto paura e ha paura di concretizzare quello che nel Paese si stava alimentando e cioè la voglia di rompere determinati schemi, schemi di rottura che vedono l'Europa come unico potere che riesce a dettare le condizioni di mera sopravvivenza agli altri. Ma sono riusciti a costruirlo talmente bene che adesso tutti saranno lì, come già accadde con Mario Monti, a portare in processione Mario Draghi, l'uomo della salvezza, l'uomo della sopravvivenza. Il peggior incubo per quello che mi riguarda, perché come dissi nelle trasmissioni televisive, come ho scritto e mettendo quindi nero su bianco nei miei libri, considero Draghi non una risorsa del Paese, ma colui che cominciò a tradire il Paese. Ricordo la profezia di Francesco Cossiga, l'ultimo grande presidente della Repubblica, capace di picconare delle pseudo-verità, delle pseudo-realtà. Mario Draghi è la persona che serve adesso per dare il colpo di grazia ad un'Italia così come l'abbiamo conosciuta. Mario Draghi è lo stesso del Britannia, Mario Draghi è lo stesso di quella maledetta stagione di privatizzazioni che sono e che furono l'inizio della svendita del Paese. Mario Draghi io non lo voterò né in un governo né come Presidente della Repubblica, ci manca solo questo. E lì finalmente vedremo chi calerà sul tavolo le carte, perché adesso si gioca a carte scoperte. E non vale l'appoggio esterno, e non vale tentare di giochicchiare, di fare Melina. No, adesso è il tempo di dividersi, adesso è il tempo di dire da che parte si sta. Lo so, saremo in minoranza perché i tromboni delle gazzette, dei gazzettieri, dei cronisti saranno tutti a favore di Mario Draghi. Finalmente, finalmente la competenza! E ancora una volta ci ritroveremo ingannati da questo esercizio ipnotico, perché Mario Draghi non è l'ancora di salvezza di questo Paese. Mario Draghi è il punto di riferimento di una certa elite che, guarda caso, oggi ha utilizzato Matteo Renzi per arrivare laddove evidentemente volevano che si arrivasse. Perché volevano arrivare lì? Perché questo sistema, questa elite, questa cupola, in qualche modo aveva capito che gli italiani, quando sono in grado di esprimersi liberamente nell'urna, possono anche dire no a loro, no a quel sistema, no a quel potere. Questo fu l'effetto miracoloso di quel voto. Quel voto, questa legislatura doveva essere decisamente un qualcosa di diverso. Doveva essere la rottura, la discontinuità col passato. Invece ci ritroviamo che la prima forza parlamentare riuscirà a votare un governo sovranista, un governo europeista, quindi un governo con la Lega, un governo con il PD, l'EU e Renzi, perché poi diremo anche una cosa su questo, e ora riuscirà anche a votare un governo tecnico. Un governo che ancora una volta si rifugia dietro e dentro l'inganno del tecnicismo. Ma qui non c'è il tecnico, questo non è un governo tecnico. Questo è un governo della loro politica. Perché attenzione a non cadere, ancora una volta nel tranello, di vedere in Mario Draghi il salvatore della patria. No! Andate a rileggervi il curriculum di Mario Draghi. Uomo coltivato, cullato, preparato dall'elite per arrivare a mangiare l'ultimo grande pezzo di Italia che è sinceramente orgogliosa del proprio patrottismo, del proprio sapere essere eccellenza mondiale, perché non vogliono un'Italia così. Non vogliono che minimamente si possa ritornare a masticare un linguaggio di Italia libera e sovrana. Ecco perché oggi più che mai quello che noi stiamo mettendo in piedi, cioè il grande progetto di Italexit, va sostenuto da voi. E vedremo quali forze politiche voteranno questo governo. Per quel che mi riguarda e per quel che riguarda Italexit il voto non ci sarà. Poi si apparecchieranno tutto. Adesso vedo che se n'è andato Carelli dal Movimento dicendo che il Movimento ha perso la propria anima. Ma come? Fondi un centro popolare per l'Italia? Ma che cos'è oggi il Movimento se non questo anacquamento schifoso, corrotto? Noi non siamo corrotti, non viviamo e non subiamo questa corruzione politica che vede in Mario Draghi o nella Cartabio, in queste soluzioni non politiche ma tecniche, vede la salvezza. State attenti perché adesso comincerà il lavaggio del cervello, o meglio continuerà il lavaggio del cervello. Il lockdown, il covid, la paura e il tecnico che vi salva. Ragazzi è perfetto, è esattamente la combinazione perfetta di questi elementi. È un qualcosa di drammaticamente schifoso che stanno facendo agli italiani. Quindi noi diremo no. E questo è il momento di dire Italexit. Questo è il momento di partecipare al grande progetto di Italexit. Perché tanto oggi cominciamo a costruire un qualcosa di importante. Oggi finalmente inizierete a capire quello che capirete come accadde per Monti che capirete dopo. Allora state con noi, accompagnateci. Qui e adesso è il momento del coraggio. Vediamo chi sosterrà questo governo di Mario Draghi fatto in nome dell'emergenza. Io ne ho già visti troppi di questi governi dell'emergenza e abbiamo visto come è andata a finire. Abbiamo visto che il conto della crisi è finito sul tavolo della povera gente. Sul tavolo di un ceto medio che si sta impoverendo. Di un ceto di classe di lavoratori a cui vengono sottratti tutti i diritti. Anche i diritti più elementari e fondamentali. Adesso è il momento della riscossa. E finalmente vedremo e capiremo, conteremo, chi sta con il sistema e chi invece ci metterà la faccia e dirà no al governo Mario Draghi. Domani altre dirette e capiremo come andranno le cose. A tutti un saluto e non dico una buonanotte perché non c'è niente da stare sereni.